Non so se vorrà calciare però il gioiello con la maglia 21, siamo lontani dalla porta Infatti stavolta è uno schema per favorire Iguaini, l'area di rigore, Storari eccezionale Poi Rugani fa 1-0 per la Juve che passa in vantaggio dopo 14 minuti con Daniele Rugani Ibala cerca nell'area di rigore, Alexandro ha un passo dal 2-0 sull'asse di Ibala-Alexandro la Juve Iguaini che è fuori dall'area di rigore, vuole liberare il destro, scheggia il palo e palla sul fondo Pjanic solo davanti a Storari, lo centra in pieno, arriva Iguaini che mette dentro il gol del 2-0 3 presenze allo Juventus Stadium in campionato, 4 gol per il Pipita Va Pjanic, uno schema per favorire Dani Alves al limite, arriva Dani Alves Che infila l'angolino, il primo gol in bianco-nero dell'ex Barcellona Dani Alves 3-0 per una Ancora Alexandro in area, fuori al limite da Dani Alves Destro potente deviato, palla alta Pjanic calcia in porta, pallone che rimane ancora vivo, Storari bravo a chiudere sul primo palo Hernanes la fa abbassare, quasi sotto la traversa ma sulla mano una di Storari Pjanic morbidi in area a cercare Mangiukic, la torre dentro per Lemina che controlla Lemina Disturbato e poi anche da terra, riesce a segnare il gol del 4-0 Cepitelli prima di Lemina Piazza va da solo, va adesso dal suo connazionale, Mangiukic Sull'esterno della rete e sul fondo Ancora Piazza in area di rigore, Piazza Alto sopra la traversa, non riesce a trovare il gol del 5-0 E qui arriva il triplice fischio di Mariani che sancisce